Sì, eccoci, Tony Sousa-Borge, una gara 2 spettacolare, una moto che Tony fa crescere ogni gara, tecnicamente un pilota fantastico. Tony, complimenti, bellissima gara, terzo posto europeo gara 2, raccontaci. Sì, grazie a Inquad e Douglas per me supportare in l'Europa e l'Italia, che tiens a les ringerciare del fondo del cuore. Per primo, sono benvenuti, poi sono finito 6, quindi sono molto contento, con dei maxis un po' patinanti al principio della manche. In fin di manche ho riuscito a riuscire un po', quindi sono molto contento della prima manche e la terza manche, buon partito, buon risultato e finito sul podio, quindi sono molto contento. Grazie, grande Tony, un saluto, complimenti ancora a un grande campione, un grande pilota e un collaudatore spettacolare che sa portare al top le moto di ogni team. Grazie Tony. Grazie a te.